Ci troviamo alla parrocchia Santa Maria di Loreto di Pesaro, nello specifico all'esterno dell'oratorio, luogo in cui al martedì si somministrano i vaccini anti-influenzali. Questo è il secondo martedì in cui si svolge questa procedura. Tanti i prenotati, tanti soprattutto gli over 65, su di loro si concentra al momento la campagna anti-influenzale, che dunque si presentano qui negli spazi parrocchiali, spazi parrocchiali scelti proprio perché sono luoghi ampi e adatti a evitare assembramenti. Ogni martedì facciamo 350-400 vaccini. Questa esperienza è cominciata dall'anno scorso, quando in piena pandemia Covid si era vista la necessità di radunare tutte queste persone che dovevano fare il vaccino anti-influenzale in ambienti più spaziosi, che non erano i nostri ambulatori. E quindi, considerando l'ottimo rapporto che ho con Don Giuseppe, che è il parroco di Loreto, e conoscendo già questa struttura, perché ci facevamo degli incontri, delle feste e così, ho pensato appunto di trasferire la vaccinazione anti-influenzale qua, insieme ai miei colleghi di medicina di gruppo. Quindi siamo cinque medici che ruotiamo il martedì, perché il martedì è il giorno in cui non ci sono altre iniziative in questo locale. Fabio Fratoni si è appena vaccinato qui all'oratorio di Loreto. Le chiedo come mai ha scelto di sottoporsi al vaccino anti-influenzale e se è una prassi che ha seguito anche negli anni scorsi. Sì, sì, ho seguito anche negli anni scorsi, dietro il consiglio del dottor De Santi, che è il mio medico di famiglia. Io credo molto nella scienza e credo molto nelle istituzioni, perché vivo in un paese democratico, e se mi dice di vaccinarmi, io mi vaccino. Sono cinque i medici che si alternano in questi spazi dell'oratorio di Loreto per somministrare i vaccini anti-influenzali. Un'alternanza perché si vaccina sia il mattino che il pomeriggio, in questo che il secondo martedì di vaccinazioni anti-influenzali nella parrocchia di Loreto. La differenza rispetto al primo martedì, quello della settimana scorsa, è che sono arrivati finalmente anche i vaccini per gli under 65. Prossima tappa della campagna di vaccinazione anti-influenzale, qui a Loreto, martedì 30 novembre. Siamo arrivati ieri con il nostro grande sollievo, perché avevamo 300-400 persone prenotate, di cui la metà hanno sotto i meno di 65 anni, e quindi insomma avremmo dovuto spostare tutti gli appuntamenti. Invece dai, sono arrivati un primo grosso quantitativo e un altro grosso quantitativo arriverà la settimana prossima. La campagna di vaccinazione anti-influenzale è iniziata il 20 ottobre, una campagna anti-influenzale che vive di una percezione diversa da quando si vive purtroppo in regime di pandemia. Il concetto dell'anti-influenzale un pochettino era stato accantonato, perché adesso si pensa solo giustamente alla vaccinazione anti-covid, però c'è da dire che mentre l'anno scorso con tutte le misure contenitive dell'infezione da covid, quindi il distanziamento, mascherine, lockdown, l'influenza praticamente non è quasi esistita, quest'anno invece le previsioni sono che almeno 7-8 milioni di italiani si ammaleranno di influenza, e c'è anche da dire che queste previsioni sono avvalorate dal fatto che è circa un mesetto che cominciano le forme cosiddette pre-influenzali, quindi c'è parecchie persone con febbre, raffreddori, mal di gola, che l'anno scorso non c'erano, o comunque l'anno scorso tutti quelli che avevano queste forme qui erano tutte covid. Quest'anno invece io faccio fare i tamponi a molte persone che hanno queste forme e sono negative, quindi queste sono forme diciamo pre-influenzali in previsione, quindi questo significa che l'influenza arriverà.